Buongiorno ragazze, nuovo video vlog e iniziamo subito, oggi è mercoledì con la colazione. Qui abbiamo le fragole che come vedete sono un pochettino rovinate, poi mangerò un pochettino di cocomero, nell'estate lo adoro, biscotti oro, saiva integrali che mi piacciono tantissimo e non hanno olio di palma naturalmente, e bevo pochissimo tè al limone perché fa malissimo e non ho il succo di frutta che piace a me. Buon pomeriggio ragazzi, mi sono appena fatta una doccia, quando non stavo vloggando sia venerdì scorso ho tagliato un pochettino i capelli, adesso sono ancora un po' bagnati e sembrano un po' strani e sono tipo lunghi davanti e molto più corti dietro. Volevo farvi vedere che sto facendo cuocere i fagiolini qui dentro, ieri i miei genitori sono andati a fare un po' di spesa da acqua e sapone. Quando sono tornati tipo sono rimasta un po' così perché loro non seguono mai i miei consigli, ma stavolta mia mamma è tornata a casa con questo, mi ha raccontato che papà voleva un suo solare proprio solo per lui specifico e fra tutti ha scelto questo de Iomia, latte solare biologico SPF 30 alta, naturalmente con olio di argan e come vedete è certificato ISEA. Io tipo così, no perché veramente, comunque ragazze seppure si può interessarvi una recensione comunque lo prova lui, ma lo proverò anche io. L'inci è molto molto buono e è adatto sia a viso che corpo. Vi segnalo questa tipo iniziativa che dà acqua e sapone. Spendendo 15 euro in solari ti regalavano questa confezioncina qui, adesso vi posiziono e la vediamo insieme. È un bracciale di zoppini, tutto nero e con la chiusura magnetica, il problema è che per me è troppo grande. Questa acqua e questo solare l'hanno trovato al 15% di sconto, quindi ottimo. Go out! Spesa fatta, adesso caffè. Ho fatto un pochettino di spesa e adesso sono praticamente qui fuori dall'estetista, perché sto aspettando mamma, così la riporto direttamente a casa io. E volevo farvi vedere che oggi, dopo tantissimo tempo, mi sono truccata. Avevo anche il rossetto, ma siccome ho preso il caffè, si è tolto. Ma volevo farvi vedere che ho messo anche il choker, che è quello che vi ho fatto vedere nel video degli acquisti che ho fatto in crociera e infatti questo l'ho preso a Barcellona. Tra l'altro me ne sono arrivati tantissimi. Volevo farvi un video con tutti i choker, poi se può interessarvi fatemi sapere nei commenti. Ciao ragazzi, praticamente mi vedete così perché è successa una cosa. Dopo colazione ho avuto una brutta storta e non riuscivo neanche a reggermi in piedi. Per fortuna c'era mia madre che mi ha aiutato e adesso guardate. Praticamente questa è la situazione. Questo è il ghiaccio e questo è il piede coinvolto. Adesso non so se dovrò andare al pronto soccorso, comunque a fare una visita perché fa veramente male. Non c'è un pochettino gonfia adesso, guardate, sono malissime. Buongiorno, andiamo dal medico per la caviglia anche oggi. Praticamente la situazione di oggi è come quella di ieri. La caviglia è abbastanza gonfia. Ieri ho messo il laso nille, ho dormito con le gambe alzate e ho messo il ghiaccio. Vi spiego un po' quello che è successo. Ieri ho fatto una bruttissima storta mentre stavo tipo andando a portare una busta dell'immondizia fuori casa. E mi sono rialzata ma grazie a mia madre che tipo mi ha retto. E all'inizio insomma tutto abbastanza tranquillo. Camminavo così si è andata a fare una lastra. Un'altra me ne ha fatte ben due. Non ho nulla di rotto. L'unica cosa che mi è uscito un grande matoma, il mio medico curante, mi ha dato una calza. E questa calza la metterò per tenerlo un po'. E comunque mi ha detto il dottore che non posso muovermi e devo stare ferma assolutamente a letto. E ho a fare... io non ci riesco, cioè non ci riesco. Non è che io voglio uscire perché chissà quale cosa, però non ci riesco a stare ferma. Io per casa mi devo muovere, pulisco, faccio, non riesco a starmi ferma assolutamente. Tra l'altro volevo farvi vedere che tipo ieri, prima che succedesse tutto questo, anzi giovedì sera, ho messo lo smalto e ho preso questo qui che è quello celeste che metto ogni estate ed è bellissimo di mesauda. L'ho messo anche qui ai piedi. Cioè, guardandomi nell'anteprima del video ho visto che ho le labbra secchissime e quindi vado a mettermi la dolci labbra torta di mele di Alchemilla. Ho passato in parafarmacia perché comunque mi sta accompagnando il patatone perché non posso guidare. Ed eccomi con la calza contenitiva. Ciao ragazzi, come vedete mi sono ripresa un po' e ho approfittato perché è venuto il patatone e mi ha aiutato a farmi la doccia. Mi si era sbeccato lo smalto e come vedete l'ho rimesso. E volevo farvi vedere che ve ne parlavo oggi in macchina che è questo qui di mesauda. Il numero era qui sopra ma io ho messo anche il top coat. Ho questo qua di Lidl, di Sien, della collezione quella permanente. Visto che ci sono, che fino a lunedì questo, diciamo no, c'erano alcuni prodotti MAC in promozione al 40% di sconto sia in tutti i negozi che sul sito. E ho fatto un ordine online approfittando anche delle spedizioni gratuite e ho preso praticamente una tinta labbra perché come sapete dei prodotti MAC, comunque quelli con incipessimo, di solito non acquisto fondotinta, correttori, ombretti, ma soprattutto o prodotti labbra o comunque prodotti per gli occhi. Della Limited Edition Photographs by Helmut Newton, che è un famosissimo fotografo. Questa qui si chiama Self Portant e è una Retromatte Liquid Lipstick, però di quelle riformulate, quelle infatti un po' migliori. Lo farò vedere meglio in un prossimo video haul. Buongiorno ragazzi, oggi di nuovo qui sul divano, come vedete, però sono sincera la gamba sta molto meglio. Ho approfittato questa mattina che appunto mi sentivo un po' più in vena e ho girato tre video. Adesso i miei genitori sono un attimo usciti che sono andati a fare un po' di spesa, più che altro gli ho commissionato qualcosa da prendermi. Questa settimana, per fortuna, adesso sono andata a vedere un attimo di là, perché veramente non ce la faccio più a stare stesa, c'è l'acqua. Incredibile. Con il numero di questa settimana di Star Bene, che è quello del 20 giugno 2017, trovate in allegato questo gel d'aloe qui, che è l'aloe vera gel puro ecobiologico. Protegge, nutre e idrata la tua pelle per pelli sensibili. Come vedete è certificato ISEA, puro gel d'aloe vera ed è un formato speciale della marca Specchiasol. Non è un gel puro, cioè non è composto al 100% di gel d'aloe vera, dunque posso dirvi che ha un buon inci e soprattutto che è ottimo, soprattutto per l'estate. E mi vado a rimettere un po' sul divano. Anzi, visto che ci sono, inizio anche a montare i video, quelli che ho girato appena adesso, così li potete vedere subito, subito. Tra l'altro, ragazzi, volevo ringraziarvi per due cose. La prima cosa è che ho pubblicato sulle Instagram Stories le foto della mia caviglia e moltissime di voi si sono preoccupate per me. Grazie, grazie mille. E poi volevo ringraziarvi perché per me è stata la prima volta che ho comunque iniziato a girare un wikiblog e ho visto che in tantissime lo avete apprezzato e mi fa piacere. Infatti, vabbè, questa settimana ho ribloggato. Ieri è andato online il nuovo video di Essence, My Must Have, con eyeshadow, blush. Volevo poi farvi vedere che proprio ieri ho fatto un ordine su Hot Miami Style, che è questo sito tenso americano. E ho visto che hanno dei vestiti bellissimi. Avevano messo le spedizioni internazionali gratuite. Ho pensato di andare a dare una pulciata al sito e alla fine ho fatto un ordine. Faccio vedere. Questo completo qui, vedete, è bellissimo. È composto dalla parte sopra e la gonna sotto. E anziché pagarlo 89,99, l'ho trovato in promozione a 19,97. L'unica taglia disponibile era la S. Quindi, ragazzi, nel caso voi avete già ordinato da questo sito, riuscite a dirmi se la S potrebbe andarmi. Calcolate che io ho una 44. Fatemi sapere. Tanto comunque ho pagato con PayPal. Nel caso mi farò rimborsare. Se può interessarvi, si chiama Black Nude Illusion Sequined Two Piece Set. È arrivato finalmente il succo di frutta su il tropicana, 100% arancia. E lo bevo subitissimo. E i miei yogurt preferiti, questi qua, WEG, di Conad. Tra l'altro, volevo farvi vedere anche una cosa, visto che sono ancora qui al PC. Sulla mia pagina Facebook vi ho pubblicato una cosa molto interessante. Che sinceramente, quando l'ho letta, anche io sono rimasta un po' come per dire, oh mio Dio, non ci posso credere. 24 fino al 30 giugno. Si ha il 30% di sconto su una selezione di gioielli, che ho visto che ci sono tipo charm, orecchini, o sul sito ufficiale di Pandora. Naturalmente la promozione c'è anche nei punti vendita monomarca e nei rivenditori Pandora aderenti. Per cena, peperoni ripieni di pasta. Sicuramente anche la prossima settimana ho intenzione di rifarvi un wiki vlog. Perché ci sono nuove uscite con i giornali. Con Grazia ho visto che c'è addirittura in arrivo un rossetto. Speriamo di trovarlo, è di Lancome. Comunque seguitemi su Instagram per tutti gli aggiornamenti. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!